Salve, bentrovati, ritorno al nostro appuntamento settimanale. Mentre l'Italia cerca di ritrovarsi, il Napoli ormai ha ancora una volta piazzato la sua nomination come l'unica al momento, ma probabilmente anche per buona parte del campionato, come anti-Juve. Attenti all'Inter perché la rosa è quella che è e alla fine potrebbe sicuramente rientrare nel novero delle pretendenti, ma il Napoli comunque, dopo Sarri, con Ancelotti, come era preventivabile, al di là di chi aveva poca fede, non fa rimpiangere il passato che rimane comunque esaltante. Il lavoro di Ancelotti è quanto mai intrigante, sta dimostrando una serie di cose che De Laurenti si gli aveva chiesto e anche sono la gioia dei napoletani, questa sorta di turnover continuo, questi giocatori rilanciati, alcuni ex novo, questa rosa che comunque ha, al di là della sfortuna e del campionato, bucato una sola partita, se vogliamo, quella di Genova con la Sampdoria. È una squadra che fa ben sperare, è una squadra che comunque sta crescendo e secondo me Ancelotti è uno di quegli allenatori che se avrà la possibilità di giocarsela ancora tu per tu con la Juventus, classifica ravvicinata, non fallirà, come del resto non ha fallito neanche, se vogliamo, nella gara di andata. La Juventus è quella che è, è uno squadrone, si è rinforzata anche con Ronaldo, quindi anche quest'anno a Napoli è chiesta una grande, grande, grande annata e una grande prestazione. Però mi va questa sera di parlare della Juve Stabia, del blitz a Catanzaro, che come tutti sappiamo, la squadra calabrese è una delle compagini che mira al salto in Serie B. Ha allestito una rosa importante, la squadra è allenata da Oteri, è andata alla Juve Stabia e ha zittito una città intera con uno 0-3 esaltante, importante e che davvero si candida appunto come la sorpresa del campionato. Anche se vogliamo, sorpresa tanto non era perché la squadra è stata assemblata con grande intelligenza. Una cosa che mi viene in mente è che il Benevento, quando dalla C alla B è salita qualche anno fa, lo fece senza il suo presidente originario che era Vigorito, ma con due presidenti che quell'anno gestirono l'annata. Una cosa molto molto simile a quello che sta succedendo quest'anno alla Juve Stabia, ma va detto anche che comunque la presenza di Manillo c'è presente, importante e secondo me è ancora determinante. Ecco, agli stabiesi dico, credeteci, non lasciatela sola, correte sempre di più allo stadio. Ecco, questo può essere un torneo dove la città può di nuovo stringersi attorno a 11 giocatori che possono farla sognare. E con i tempi che corrono nel calcio perché non sfruttare l'occasione? Tutti al menti, credendoci, Orlando, forza Juve Stabia. Forza Juve Stabia.